benvenuti benvenuti a un nuovo appuntamento con dna la trasmissione di medicina di caserta sera oggi parleremo nel corso del nostro incontro di una patologia molto diffusa che il cancro del colon cosa fare come compatterlo e come prevenirlo di tutto questo ne parleremo subito dopo la sigla bene ritorniamo in studio andiamo a presentare i nostri ospiti che sono la dottoressa maria teresa rumolo radiologa dirigente medico presso il presidio ospedaliero di piedi monte matese benvenuto dottoressa il dottor pasquale musto chirurgo presso la clinica atena di piedi monte matese fresca di un premio importante a milano benvenuto anche a lei buonasera allora la prima domanda la farei proprio al dottore musto intanto vogliamo definire che cos'è un tumore ebbè parlare di un tumore è una 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 crescita esponenziale di alcune cellule che perdono il loro normale metabolismo e quindi imprevimente esplodono creando del tessuto nuovo portando dei danni legati a una alterazione cellulare che si si crea nel nel luogo nel caso del colon di cui dovevo parlare stasera vanno a creare dei danni importanti che sono l'ostruzione principalmente di questa quali sono secondo lei i sintomi più imminenti più si si fanno notare che c'è qualcosa che non quindi parlando sempre del colon retto che il nostro la parte del nostro tubo digerente diciamo che i sintomi sono piuttosto fugaci nel primo periodo anzi addirittura possiamo dire che inizialmente è asintomatico possono esserci successivamente delle perdite di sangue attraverso le fici possono esserci dei dolori addominali e un'alterazione dell'alvo cioè l'alvo che può essere alcune volte diarroico o alcune volte addirittura si può avere una stessa ecco qual è il campanello d'allarme proprio che ci può far scattare diciamo un po che succede allora il campanello d'allarme è difficile è difficile nel senso che abbiamo già detto che ci possono essere e queste retorragie perdita di sangue per cui il paziente si spaventa e corre dal medico alcune volte soltanto all'alterazione dell'alvo per cui io ci tengo a dire che è importante nella prevenzione che magari ne parliamo poi ne parliamo la prevenzione ecco qual è il primo esame diagnostico da fare che lei consiglia ma diagnostico da fare diciamo che dipende dal dal tratto interessato noi abbiamo il tratto del colon e il tratto del retto che sono due organi differenti anche se fanno parte della stessa continuità il primo esame gli esami da dover fare sono un'ecografia addominale che l'esame più semplice e più rapido più facile a poter eseguire immediatamente il successivo esame può essere un sangue occulto nelle feci occulto significa non quando uno vede il sangue naturalmente quando non si vede quindi può darci un'indicazione l'altro esame principale è la colonoscopia che o rettoscopia o anoscopia secondo di dove è dislocato il timore e successivamente verranno gli altri altri esami particolari quale può essere un attacco con mezzo di contrasto o una risonanza magnetica sempre con contrasto per poter andare a stadiare il tumore ecco ripariamo con la dottoressa rumolo che è radiologa e quindi conosce bene questi esami si parla molto spesso di colonoscopia virtuale che cos'è esattamente sì la colonoscopia virtuale è un esame radiologico che va a simulare una colonoscopia tradizionale però a differenza di quest'ultima non è invasiva in quanto non prevede l'utilizzo dell'endoscopio le immagini vengono acquisite attraverso delle scansioni TAC con il paziente posizionato sia in posizione prona che supina breve insufflazione di una piccola quantità di aria per distendere la cornice colica successivamente le informazioni i dati ottenuti attraverso la TAC vengono poi rielaborati attraverso dei software molto sofisticati che permettono di fornire un'immagine tridimensionale della cornice colica e successivamente delle immagini delle animazioni grafiche che permettono al radiologo di poter avere una visualizzazione diretta del lume viscerale ecco è un esame che ha bisogno di diciamo di preparazione particolare di esami preliminari è preferibile un'adeguata preparazione intestinale prima di effettuare l'esame una pulizia intestinale quindi il paziente viene invitato nei due giorni precedenti l'esame ad evitare un'alimentazione ricca di pane di pasta di alimenti contenenti fibre oppure semi viene consigliata un'adeguata idratazione e viene anche prescritto un blando lassativo che il paziente dovrebbe assumere la sera precedente l'esame il giorno stesso dell'esame il paziente deve presentarsi a digiuno dopodiché due ore prima dell'esame stesso nel reparto di radiologia viene somministrato mezzo di contrasto per via orale di solito il gastrographin con lo scopo di andare a marcare eventuali residui fecali in modo da non confonderli con eventuali formazioni polipoidi poi in alcuni centri viene utilizzato anche il mezzo di contrasto per via endovenosa anche se non è indispensabile però può essere utilizzato a completamento diagnostico in modo da valutare anche le altre strutture addominali e in questo caso se viene somministrato anche mezzo di contrasto per via endovenosa è importante prescrivere al paziente alcuni esami che vanno a valutare soprattutto la funzionalità renale ecco è fastidioso questo esame è sicuramente molto meno fastidioso rispetto alla colonoscopia tradizionale in quanto non prevede appunto l'utilizzo dell'endoscopio che per via anale raggiunge la valvola iliocecale ma viene utilizzata soltanto una sonda rettale per l'insufflazione dell'aria l'insufflazione dell'aria odianidride carbonica non è particolarmente dolorosa viene di solito ben tollerata dal paziente anche se in alcuni casi viene somministrato uno spasmo litico come il buscopan per alleviare questa diciamo può essere fastidiosa un po' un po' sì però meno rispetto alla conoscopia tradizionale ecco una volta individuato il tumore al colon qual è il leader diagnostico da seguire una volta individuato il tumore del colon il tumore va stadiato perché lo stadio va a influenzare quello che poi il successivo trattamento quindi tutti i pazienti dovrebbero devono comunque essere sottoposti ad un esame tac total body con mezzo di contrasto in modo da non solo andare a confermare la presenza del tumore nella sua sede principale ma anche quella di valutare eventuali coinvolgimento linfonodale e metastasi a distanza ecco non so quanto è attendibile questo esame la conoscopia virtuale intende la conoscopia virtuale è sicuramente un esame molto accurato però la sensibilità diminuisce soprattutto quando siamo di fronte a lesioni piatte oppure a lesioni polipoidi molto piccole dell'ordine di 5-7 mm ecco prima di sentire il dottore Musso vorremmo chiedere qual è il ruolo della risonanza magnetica in questa patologia la risonanza magnetica svolge un ruolo fondamentale soprattutto quando ci troviamo di fronte a un tumore che interessa il retto perché è molto importante per quanto riguarda la stadiazione locoregionale con la risonanza magnetica infatti è possibile andare a valutare non solo il grado di infiltrazione della parete ma anche l'eventuale coinvolgimento degli organi extrarettali limitrofi e questo va ad influenzare anche il trattamento inoltre poi la risonanza può essere comunque utilizzata anche per la valutazione dopo un eventuale sempre di fronte a un tumore del retto in seguito a un trattamento radioterapico chemioterapico oppure per la valutazione di eventuale insorgenza di recidiva e adesso la cosa importante della terapia dottore Musso qual è la terapia? sicuramente la terapia oggi rimane sempre la terapia chirurgica che è quella importante e fondamentale codiuvata successivamente o preoperatoriamente con la chemioterapia e spesso anche la radioterapia specialmente per i tumori del retto però io ci tengo a dire una cosa molto importante la prevenzione la prevenzione è fondamentale allora il tumore del colore retto colpisce 50.000 persone ogni anno e diciamo che più o meno si rivalgono 26.000 uomini contro 24.000 donne e questo è il secondo tumore dopo la mammella per la donna e la prostata per l'uomo che colpisce la popolazione allora la prevenzione va fatta perché la maggior parte dei tumori del colon sono causati da vengono dalla trasformazione di polipi allora il polipo del colon è un adenoma che è in una fase ancora precoce prima del tumore che può essere asportato allora perciò io dico la prevenzione viene fatta o come diceva la dottoressa tramite una colonoscopia virtuale e nei casi specifici in cui c'è una familiarità anche con questo tumore è importante eseguire una colonoscopia la colonoscopia non è un esame come tutti credono doloroso, pericoloso è un esame, un gold standard per poter andare a visualizzare questi polipi ed asportarli endoscopicamente cioè asportando il polipo si riduce il rischio che questo polio possa trasformarsi in un tumore quindi io ci tengo a dire lo screening viene effettuato oltre col sangue occulto con le feci soprattutto con la colonoscopia nella fase iniziale oggi si è visto che il tumore del colon inizia a dover essere visto già a 40 anni cioè si è ridotta l'età di partenza quindi bisogna insistere sulla prevenzione è l'unico argomento che noi abbiamo per poter sconfiggere questo tumore anche perché ormai le terapie come stavamo dicendo hanno permesso se viene preso in tempo in una stadiazione che non sto a spiegare perché è medica in una stadiazione precoce la sopravvivenza delle persone arriva anche al 75% a 5 anni cioè è una sopravvivenza molto alta quando invece è in una fase avanzata questa sopravvivenza scende addirittura al 20-22% quindi bisogna prevenirlo quindi il sangue occulto nelle feci vogliamo dire ai nostri si, il sangue occulto nelle feci non è niente di particolare assolutamente si prende con un cotto in frocco un po' di feci e si manda a analizzare la nostra ASL di Caserta sta facendo questa prevenzione dopo i 60 anni ma è opportuno farlo anche prima è chiaro che il sangue occulto nelle feci va fatto in persone che sono asintomatiche cioè la persona che già ha una retorragia cioè ha una hematoghezia una perdita di sangue attraverso le feci e la vede credo che sia inutile andare a fare un esame stanno che non si tratta delle vie basse le maurore invece va fatto quando non c'è assolutamente nessun tipo di segnale e spesso abbiamo visto che in una fase iniziale purtroppo il segnale non c'è Dottoressa, vuoi raggiungere qualcosa? io credo che noi sostanzialmente abbiamo detto tutto abbiamo definito abbiamo detto un po' degli esami la prevenzione che è fondamentale questo lo dobbiamo ricordare a tutti quanti e quindi a questo punto se non abbiamo niente da aggiungere la nostra trasmissione termina qui grazie agli ospiti che ci hanno dato un contributo importante spero che possa essere importante pure per chi ci guarda da casa e quindi ci fermiamo qui alla prossima sigla ciao 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 ciao